Buongiorno, sono Alberto De Martinis, socio della sezione di Roma dell'Associazione Radio Amatori Italiani, l'ARI. Come è cominciata la passione? Beh, allora, per motivi professionali, io sono ingegnere elettronico, sono sempre stato interessato alla tecnologia, ma soprattutto alle radiocomunicazioni. Mi sono avvicinato a questo mondo gradualmente, con molta, con molte perplessità all'inizio perché lo consideravo, come del resto ho potuto riscontrare anche da altre persone che poi ho contattato, come se fosse un hobby un po' obsoleto, uno strumento del passato, tant'è vero che i radiomatori nel mondo si chiamano OM, Old Man, che la dice tutta su quello che è la nostra immagine agli occhi del mondo. In effetti poi le cose non sono così, non stanno così perché, prima cosa, siamo stati, come ha detto il nostro Presidente, i primi makers della storia. Secondo, perché abbiamo un Nobel in Italia che è stato il primo radiomatore italiano, anzi il primo radiomatore del mondo, di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi. Terzo, perché nonostante continuiamo a vivere una epoca in cui la tecnologia la dobbiamo in qualche maniera frenare e non dominare, perché ormai il concetto di dominare la tecnologia è un qualche cosa che, diciamo, esula un po' dalle nostre pieghe, no? Perché non riusciamo a farlo. È una manifestazione di impotenza questa. In effetti noi possiamo utilizzare la radio come veicolo di comunicazione. Veicolo di comunicazione significa che, nonostante la mancanza di infrastrutture, questa è la cosa più affascinante, è quella che sto cercando di far capire nella mia attività anche di promozione della radio e della comunicazione via radio. La mancanza di infrastrutture significa che ci sono due persone al mondo che vogliono comunicare e lo possono fare senza infrastrutture utilizzando un apparecchio radio o un'antenna. Devo dire, io pure sono un radiomatore, sono Italia, Zelanda, Zero, America, Victoria, mi chiamo Paola Guasti e ho cominciato questa attività dopo, dopo sposata, dopo tantissimo tempo che ormai eravamo sposati. Praticamente ho visto lui che trafficava con le radio e devo dire che più che l'afonia mi ha affascinato il CVW perché sentivo questa cosa incredibile e mi chiedevo come fanno a comunicare soltanto con punti in linea e con questo da, 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 ho cominciato a studiare attraverso un programma sul PC e poi ho trovato tantissime persone in due metri che mi hanno praticamente presa veramente per mano e mi hanno aiutata a progredire e a diventare veramente molto soddisfatta e molto contenta di adesso come, diciamo, lavoro con il CVW e devo dire che non mi piace l'afonia anche se è una cosa stranissima, io sono solo per il CVW.